Un nido accogliente, un approdo sicuro, un'offerta ispiratrice. È l'esatto opposto di un rifugio, il portale Creofuturo.it, nato per aprirsi al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e per condividere contenuti. La piattaforma interattiva è stata presentata oggi a Pescara ed è collegata ai social più utilizzati dagli adolescenti. I giovani utenti possono anche suggerire contenuti vari e promuovere attività come la realizzazione di cortometraggi e fiabe. Questa interattività e questa possibilità di intrattenere, di fare educazione, informazione anche con il cinema, con le favole? Sì, è una nuova forma di colloquio che poi in effetti è una forma più naturale. Ormai i ragazzi stanno sul web, stanno sempre sulle piattaforme e quindi forse è arrivato il momento per noi adulti di iniziare a scendere in campo e iniziare un nuovo colloquio e quindi interfacciarsi perché i ragazzi hanno bisogno di parlare, i veri protagonisti sono loro, noi spesso parliamo e non li ascoltiamo. Invece è un modo anche per ascoltarli e per comprendere le loro esigenze e conformarsi anche noi genitori che stiamo in difficoltà. E quindi con questo anche la rete per noi adulti che ci interfacciamo con i nostri ragazzi. Oggi è una giornata importante sotto il profilo dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza e qui sono presenti anche tante associazioni con le quali state collaborando per questo progetto. Sì, tantissime associazioni, quindi una piattaforma aperta a tutte le associazioni, un colloquio ma oggi proprio per la giornata dell'infanzia, non a caso, e dell'adolescenza internazionale abbiamo organizzato e dato vita a questa presentazione che è una piattaforma, non a caso proprio oggi, e poi risposta a questi ragazzi che prima sono stati intervistati dove loro hanno evidenziato i timori, le preoccupazioni, quelle che siano le loro perplessità. Quindi ho dato la parola soprattutto ai ragazzi.